No se riusciamo ad arrivare a 40.000 Per niente proprio Grazie ai campani che suonate E sì perché c'è un matrimonio qua e abito più o meno vicino alla chiesa Un po' più lontana quindi sentono le campane Perché oggi c'è il matrimonio Prima non ho potuto registrare appunto perché I miei vicini si sposavano allora facevano casino Allora 6.000 ci è avendo 13.000 13.000 più 38.000 Allora 3.8 Allora 4 Ci arriviamo a 50.000 Proviamo 52.000 qua ci vuole 55.000 Come Cazzo facciamo Come cazzo facciamo Ma no Come cazzo facciamo Raga Sto nella merda Vediamo così Allora Metti trebbia Io c'ho questa Però me la potrei vendere E comprare questa Quindi Vendi Compra Lame Compra Vendi E dai Sgang Teniamo la miti trebbia nuova Che comunque è bella questa Metti trebbia Ma comunque non teniamo i soldi C'è Io comunque ho sprecato soldi inutilmente Perché Perché raga Comunque non ci arrivo C'è Non so Prima No Aspetta Trattori Ok Il più piccolo 75.000 euro Ma raga Siete fuori di testa E io che voglio comprarmi questo Domani Sì Ma se mi vendo questo 99.000 Potrei prendermi questo Forse Quindi Qua c'è Non teniamo 120.000 Quello costa 160 Faccio schifo Faccio schifo Schifo Sai Ragazzi ho meno soldi Di prima Però c'è il trattore più figo Ma quel trattore L'era più bello No Perché mi sono venduto Il T6 Faccio schifo Faccio schifo Vabbè Mo' li riportiamo Tra l'altro Questo qua è anche più lento Faccio schifo Alla fine non ho concluso niente C'ho meno soldi Di prima Trattori E Medi Debbia Più Scadanti Di prima Quindi raga Che cazzo ho fatto Sono un coglione Ma raga Sono un coglione E comunque raga Mi sa che Per questo video Possa essere tutto E Noi ci vediamo Al prossimo video E Ciao Ciao Ciao